Una enorme valigia che si apre e la band che comincia a suonare, guidata da Capitan Zucchero. È la prima di cinque serate sold out all'Arena di Verona, una delle tappe più emozionanti e suggestive del suo Chocabec World Tour. Immaginare questa enorme valigia e poi quando si apre vedi tutte le mie canzoni, le mie parole, vedi dei filmati, delle immagini che ricordano da dove vengo, mi fanno anche sentire più a casa. Zucchero canta tutte le canzoni del suo ultimo album, ma anche i suoi classici sono rivisti, quasi rivissuti secondo le sonorità di Chocabec, filo conduttore di un viaggio sospeso fra il mondo e la provincia italiana. Nel mondo tutto sommato l'italianità, ma soprattutto la parte più della provincia italiana, è quella che è nel cuore di tutto il mondo.